Presidente Donnell, il territorio della Liguria come sempre reclama infrastrutture, una necessità, un bisogno fortemente sentito da tutto il tessuto sociale, dal mondo delle imprese in particolare che adesso fanno appello anche al Ministro Lupi. Sì, le associazioni di categoria che aderiscono a Rete Imprese Italia, cioè il commercio, l'artigianato e l'agricoltura, hanno chiesto al Ministro Lupi di incontrarlo qui a Genova per parlare della situazione proprio delle infrastrutture in Liguria che sono la linfa vitale per lo sviluppo delle imprese. Abbiamo in questo momento una casa, ne dico il turismo che sta funzionando abbastanza bene, ma voi sapete che alle volte chi viene dalla Francia e va a prendere un traghetto a Savona o a Genova rischia di perderlo se c'è un minimo intoppo di qualsiasi genere. Ascoltando la radio al mattino, prima c'era il nord di Mesta, adesso purtroppo la Liguria e Genova sono sempre in pole position e non va bene. Abbiamo già avuto modo di chiedergli, e lo dico un po' scherzando, ma forse benedetta la frana di Andorra che a mezzo ha rilanciato la necessità di lavorare come abbiamo fatto da anni insieme ai nostri amici francesi per collegare stabilmente l'Euroregione, passare quindi il valico di Ventimiglia, collegarci con Nizza, Marsiglia e Parigi. Anche da quella parte lì ne abbiamo assolutamente bisogno, non parlo delle infrastrutture autostradali dove chi frequenta la nostra bellissima regione trova degli intoppi senza lavori e senza incidenti, per esempio allo svincolo di Savona. Ci sono code interminabili proprio perché è necessario fare anche qualche piccola correzione. Gli parleremo di questo con molta accoratezza perché sarà anche occasione, facendo partire alcune opere, di creare posti di lavoro in un momento in cui ce n'è enormemente bisogno. E poi la ricaduta più generale, come tutti sanno, è quella di avere un traffico più snello, quindi meno tempo e l'impresa si sviluppa meglio. L'appuntamento è per fine mese con il Ministro Lupi? Sì, lo vedremo a Genova. Adesso lui gentilmente ci ha fatto una proposta che noi, le associazioni di categoria, vorranno firmare. Credo che entro la fine del mese avremo modo di vederlo, di esporgli queste problematiche. E nel contempo la lettera che abbiamo approntato vuole spendere una parola molto forte a favore dei corpi intermedi. Il primo ministro sembra considerarli una specie di palla al piede, invece noi crediamo che le associazioni di categoria e soprattutto le camere di commercio siano necessarie allo sviluppo di un'Italia che è frazionata in mille bellissime località che hanno bisogno di un accompagnamento locale, altro che cancellare tutto ciò che fa impresa, internazionalizzazione, promozione dei prodotti. Quindi pensiamo che anche questo sia utile dirgli e penso che lo dovrà condividere.